Buonasera a tutti e benvenuti a Santa Maria del Campo. Fra pochi minuti assisterete ad un saluto pirotecnico, organizzato dal Comitato Fuochi Santa Maria per aprire la festa. Questo momento pirotecnico si aggiunge a quelli tradizionalmente previsti nel giorno di Ferragosto. Quest'anno ricorrono i cinque anni dall'apertura del Point Gastronomico ed abbiamo deciso di festeggiarli offrendo a voi tutti questo saluto pirotecnico, che è stato allestito dalla Pirotecnica Tiguglio di Giovanni Bavestrella. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutte le persone che con le loro offerte e con la loro presenza ci aiutano nel difficile compito di conservare e tramandare le tradizioni pirotecniche. Buona visione e viva nostra signora assunta in cielo! Alla visione e an sano! Alla visione e, alla visione e そう livello ha usato un'attacco. Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.